Cars 3. Allenamento da campione. Vuoi diventare un campione? Bene, allora io sono l'auto giusta per te. Il mio nome è Kruz Ramirez e ti insegnerò a essere un grande pilota. Sei pronto per l'allenamento? Uno, due, tre, si parte! Prima di iniziare, devi farti una domanda. Quanto è forte la tua passione per le corse? Se ti svegli alla mattina sognando di tagliare per primo il traguardo e vai a dormire la sera assaporando il vento che ti fischia nelle orecchie, quando sfrecci in pista, allora sei nato per gareggiare. Come si raggiunge la vittoria? Prima di tutto bisogna partire. Da dove? Io, per esempio, ho iniziato come allenatrice aiutando le altre auto da corsa a diventare sempre più astute e veloci. Tutti devono allenarsi per migliorare e raggiungere i propri obiettivi. Perciò preparati a lavorare sodo. Ma ricorda, ognuno di noi è diverso dagli altri. L'allenamento deve essere personalizzato. Dobbiamo trovare insieme il programma giusto per te. E per farlo bisogna sperimentare tattiche sempre nuove. Se solo l'idea di correre su una spiaggia ti rende nervoso o se temi di perdere il controllo e andare su di giri, affronta la tua paura. Anche se all'inizio non ti sentirai a tuo agio, non mollare. In men che non si dica, avrai imparato a sfrecciare come un bolide anche fuori pista. Non ti allenare sempre negli stessi posti e con gli stessi avversari. Ogni tanto prova qualcosa di nuovo. Esci dal tuo ambiente sicuro, anche se questo comporta dei rischi. A volte accadrà di perdere il controllo e di finire dritto nei guai. Ma non perderti d'animo. Tutti i grandi campioni hanno dovuto combattere contro gli imprevisti. Puoi farlo anche tu. Rimettiti in sesto, lucida gli pneumatici e preparati alla prossima sfida. Se vuoi superare tutti in astuzia e velocità, impara ad ascoltare i consigli dei grandi campioni, che prima di te hanno affrontato le sfide con coraggio e le hanno vinte. Quando arriva il tuo momento, cogli al volo l'occasione. Una volta in pista, ascolta con attenzione i consigli del tuo staff e degli amici. Nei momenti più difficili ti aiuteranno a credere in te stesso. Con la loro fiducia imparerai a fare cose incredibili. E quando avrai raggiunto il tuo obiettivo, nessuno potrà più fermarti. Stupirai tutti, compreso te stesso. Che cosa stai aspettando? È ora di far ruggire i motori. Fine.